Ciao ragazzi, abbiamo visto il nuovo video, io sono Antonio e oggi vedo le mail macchine, no, sto qua, vedete, prima o c'è la seconda, sono due marroncine, che mi sono dimenticato la razza, e poi sono qui, sono qua, si nascondono il dialetto, adesso un attimo, le posso far vedere, perché comunque non si riconoscono, cioè perché sono comunque, con la luce spenta, ma se accende il video, la luce, ah, è stata più bella, scusate, ah, è un bellissimo habitat, che convivono tantissimi gradini, allora, ora si dice, ma anche se stai vivendo in casa, questo, questo, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.